Ciao ragazzi, bentrovati a questo nuovo video come avete detto al titolo facciamo un video per andare a velocizzare e ripulire il nostro sistema operativo anzi il nostro pc con windows allora parleremo di più trick, quindi di più applicazioni di più trucchetti per andare a fare ciò che vogliamo e io ve li illustrerò uno per uno incominciamo subito con la pulitura disco di windows che si trova già pulizia disco andando su accessori utilità di sistema pulizia disco dopo averla aperto ci sarà un breve caricamento e si aprirà questa finestra clicchiamo su pulizia file di sistema e aspettiamo che carichi il nuovo calcolo dei quindi dei file da eliminare perché sto usando pulitura disco a dirvi la verità ANCICLEANER un software che adesso vi farò vedere fa la stessa identica cosa però questo è l'unico rispetto a tutti questi file di terze parti che permette anche di cancellare file di backup dei service pack come vedete file di sistema quindi della segnalazione degli errori e basta le altre cose le fanno anche gli altri anzi fanno anche di più però può essere utile quindi farlo facendo ok ed eliminando i file come vedete vengono immediatamente diciamo cancellati quindi parlavo di Ccleaner ve lo faccio vedere subito Ccleaner che permette di andare a selezionare tutte le cache i file temporanei eccetera delle nostre varie applicazioni come vedete e anche del sistema operativo e andarle a cancellare quindi analizziamo e e cancelliamo adesso io ho Firefox aperto quindi non mi può cancellare la cronologia di Firefox quindi dovete avere i browser chiusi però come vedete funziona perfettamente adesso lui mi ha già pulito il computer di 11 mega un'altra cosa utile praticamente va a cercare tutte le chiavi datate del registro di Windows sicuramente tutti sapete cos'è il registro di Windows lo presuppongo comunque dopodichè dopo aver trovato tutti questi file inutili danneggiati li ripara semplicemente come cancellandoli perché sono delle voci che inutili in ogni caso potete fare un backup e salvarli in caso di problema io lo uso da anni e non ho mai avuto alcunissimo problema un'altra cosa cerchiamo msconfig questo ci permetterà di andare a selezionare tutti i programmi che si avviano all'avvio del sistema operativo e quindi di velocizzare l'avvio di Windows andiamo a selezionare tutti quei applicativi che non ci servono vedete io ho disabilitato OpenOffice iTunes poi li apro semplicemente quando mi servono non ho bisogno che il sistema li carichi in memoria tra l'altro così il pc diventa ancora più veloce ad accendersi quindi è una cosa che vi consiglio molto dopo aver scelto le applicazioni fate applica da notare che questa configurazione di sistema msconfig può essere utile per disabilitare addirittura alcuni virus che si caricano automaticamente in memoria all'avvio quindi è un'applicazione molto molto utile è già preimpostata in Windows poi vi parlo di Ramrush Ramrush che è un programma che permette di andare a ottimizzare la nostra memoria RAM come vedete clicchiamo su Start Optimize e come vedete la mia memoria RAM qui ora è a 57 ecco già è calata a 47 ecco come vedete ha liberato 10 MB di RAM ma fidatevi quando aprite tante applicazioni e poi lui le va a chiudere tantissime non 10 MB di RAM ha liberato il 10% di RAM quindi come vedete ci sono 204 MB di RAM liberati attenzione mi sono sbagliato quindi ancora meglio di come pensavamo Ramrush così come Ccleaner ed altri software vi farò adesso vedere dove scaricarli perché chiaramente non sono presenti in Windows un altro programma qual è? Deflagger Deflagger fatto dalla Piriform la stessa casa di Ccleaner che è semplicemente un programma per defragmentare l'hard disk che cos'è la defragmentazione? semplicemente quando il nostro hard disk viene utilizzato tanto quindi abbiamo tante installazioni di file tante disinstallazioni spostamenti di file eccetera l'hard disk si frammenta ovvero che tutti questi cubetti che sono i file incominciano a sparpagliarsi più lontani sono tra di loro più lento sarà quindi l'accesso ai files grazie a questo programma noi potremmo andare a defragmentare l'hard disk e quindi velocizzare l'accesso ai file del sistema operativo quindi velocizzare tutta la nostra esperienza d'uso c'è da dire che defragger scusate la defragmentazione c'è anche di default nel sistema operativo ve la faccio vedere qui ecco utility defragmentazione dischi che però io non uso perché ho notato che defragmenta peggio di questo qui è meno efficiente a volte sembra addirittura che non funziona affatto soprattutto con la versione inclusa in windows 7 e in windows vista quella di xp forse funzionava un pochino meglio era magari anche più dettagliata comunque sono dettagli un altro programma vi faccio vedere dust buster eccolo qui non lo trovate più da nessuna parte attenzione quindi io vi lascerò il link nella descrizione per farlo funzionare con windows 7 e vista dovete impostare la compatibilità quindi eseguire il programma come amministratore e la compatibilità con xp ecco come vedete sta adesso facendo quello che deve fare il processo è completamente automatico quindi non dovrete fare assolutamente nulla e sta già andando a lavorare comunque cominciamo a parlare anche di regcure pro che è un programma che serve per sistemare il registro fixare tutti i problemi che creano instabilità nel nostro sistema operativo è un programma a pagamento l'unico di questa video guida a pagamento che tra l'altro è anche microsoft partner quindi è decisamente affidabile semplicemente basterà cliccare su vedete è liberato 624 mega intanto dust buster quindi questo regcure pro semplicemente fa una serie di cose come rimuove i malware i problemi di performance vedete i problemi della privacy i file junk ovvero tutti questi file inutili problemi del sistema come file corrotti eccetera adesso io non ho molti problemi perché l'ho sistemato proprio poco fa perfetto fix all adesso la ragazza parla parla tanto la ragazza e la lasciamo parlare comunque adesso lui in pochissimo tempo perfetto no io non devo riavviare devo fare il video mi spiace ok basta e basta vi ho fatto vedere tutto sì allora per quanto riguarda regcure pro potete andare a scaricare una una versione trial dal sito qui paretogic.com vediamo se andiamo direttamente nell'home lo troviamo perfetto andate poi su prodotti oppure distante da qui vedete try it now provalo ora ecco e vi andate a scaricare la versione che vi interessa perfetto deflager deflager ve lo scaricate al sito www.piriform.com slash deflager e vi andate a scaricare ovviamente l'ultima versione è disponibile anche in versione professional e business però fidatevi la versione free basta e avanza funziona benissimo e la uso da tanto tempo stessa cosa per ccleaner che come ho già detto prima è della stessa casa di deflager e quindi lo scaricate anche questo al sito www.piriform.com slash deflager scusate slash ccleaner e da download anche questa volta andate a scaricare l'ultima versione e io come al solito vi consiglio quella gratuita perché non ha niente diciamo di più rispetto a quella ha la versione business professional per ultimo per quanto riguarda ramrush il problema per deflagerare la ram e quindi liberarla potete andarlo a scaricare dal sito www.fccleaner fcleaner scusate .com slash ramrush chiocciola no ramrush .htm scusate mentre mi arrivano messaggi nel cellulare quindi mi diciamo un po' mi distraggo comunque ci troviamo in questa pagina andiamo su download now e potremo andarlo a scaricare quindi questo programma come vi ho fatto vedere prima non avrà un'icona ma sarà qui nell'area di notifica come vedete quindi non lo spaventatevi se non lo trovate da nessuna parte perché è proprio così va bene ragazzi ah scusate per quanto riguarda Dustbuster adesso io lo caricherò in qualche sito vediamo e vi lascerò il link nella descrizione del video quindi guardate sotto il video che troverete il link per scaricare Dustbuster questo programmino molto molto utile va bene ragazzi vi saluto spero di esservi stato utile anche se sono cose assai basilari però magari non tutte le conoscono vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao belli